Ed eccoci di nuovo insieme ben ritrovati al nostro appuntamento della sera grazie per essere ancora con me lo faccio sempre vi ricordo di nuovo il nostro indirizzo di posta per restare sempre in contatto con la nostra redazione basta inviare una mail ad angoli chiocciola espansionetv.it come sapete il 7 maggio scorso è iniziato il nuovo festival letterario appunto qui a Como nell'auditorium della nostra sede voluto fortemente dal nostro direttore di testata Mario Rapisarda curato da Lorenzo Morandotti un'occasione veramente imperdibile per seguire dei personaggi interessanti del mondo della letteratura abbiamo il piacere questa sera di avere qui una delle figure insomma più amate dei primi giorni di questo festival è tornata qui a trovarci anche ad angoli Miriana Trevisan Buonasera a tutti Allora tu sei un volto conosciutissimo e amatissimo sei qui questa sera come scrittrice esordiente lo dici con molta umiltà in punta di piedi e questa è una cosa bellissima in realtà poi tu sei una presentatrice un'attrice davvero un volto conosciuto e amatissimo quindi ancora grazie per essere qui ma figura ti è un piacere questo oltretutto il mio primo festival letterario quindi è stata una grande emozione anche solo arrivare attraversare un po' l'Italia è una cosa meravigliosa anche perché sempre quando affronti un nuovo luogo della tua vita un nuovo inizio è sempre una grande emozione Il tuo libro è un titolo che già racconta molto questa donna bonsai perché hai scelto questo titolo? Ma questo titolo è un po' perché come quando ero piccola andavo allo zoo non so avevo una sorta di sofferenza a vedere questi animali chiusi in una gabbia e così è stato quando mi è capitato di vedere in una villa pazzesca questo meraviglioso e preziosissimo bonsai chiuso tra i vetri doveva essere esposto alla luce giusta avere un certo tipo di aria non troppo non troppo poco poi i vasi vanno cambiati ogni due anni era lì bellissimo ma non era in mezzo agli altri simili in più non si poteva esprimere in tutta la sua potenzialità e questo è stato il mio pensiero forse un pensiero così perché essendo io una ribelle appunto che mi sposto nell'arte in tutti i luoghi quindi dipingo così penso che l'arte o comunque l'essere umano in genere ha bisogno di esprimere le proprie potenzialità mi è venuta in mente una bella donna magari chiusa in uno stereotipo chiusa in questo vaso che poteva essere nel mio caso una forma di patriarcato ecco e ha avuto questa tristezza e quando pensato al libro dico lo vorrei intitolare la donna bonsai le donne bonsai poi insieme alla casa editrice insomma siamo arrivati alla donna bonsai la scelta certo miriana ma di fatto ascoltandoti anche guardandoti perché veramente sei abbagliante nella tua bellezza io credo che ci sia anche un po' una similitudine così per come hai descritto forse a determinate condizioni determinate esperienze che le donne in realtà vivono forse lo chiedo a te c'è questo parallelismo? assolutamente ci sono tracce evidenti di esperienze che io ho vissuto ma penso che ogni scrittore non so essendo una lettrice insomma accanita molto forte quando ero piccola le leggo continuamente vedo che comunque gli scrittori prendono ispirazione dalla loro vita da quello che vedono quello che percepiscono e quindi io certo che l'ho fatto e cosa posso dire queste donne in realtà secondo me sono donne che alcune volte sono anestetizzate dalla cultura assopite non si rendono conto di essere dentro appunto uno stereotipo che si auto creano alcune volte auto infliggono che è molto stringente tra l'altro che è molto soffocante e stringente finché hanno un'opportunità quindi c'è un evento scatenante in tutte queste quattro protagoniste di cui parlo questo evento scatenante penso che capiti alle donne e l'evento scatenante è molto spesso una sorta di me too questo insomma lo può essere stato per me forse mesi fa no? ho detto ok adesso voglia di raccontare un po' sì il sistema ci sono cose che non vanno che si possono senza fare guerre senza attaccare ma in realtà in difesa non è guerra la difesa senza attaccare cercare questo è il significato vero? la difesa? assolutamente la difesa vuol dire partire dal basso dalla cultura dal linguaggio dal parlare dal parlare l'una con l'altra questo è quello che fanno diciamo queste donne che poi sono intrecciate da un filo rosso e alla fine il loro evento scatenante è anche di parlarne, di cercarsi, di voler sfogare questa sofferenza di voler scoprire le loro cicatrici fino in fondo Miriana tu hai, lo sappiamo bene perché ti abbiamo sempre tutti seguito con affetto svolto buona parte della tua attività artistica se non altro inizialmente appunto nel contesto televisivo che a volte viene un pochino indagato, guardato con un po' di sospetto lo diciamo me l'hai anticipato tu e ti ringrazio per averlo fatto ecco in questo caso, in questo mondo è più facile che ci si possa trovare in situazioni appunto un po' stringenti un po' condizionanti che ci si debba calare in qualche modo in uno stereotipo diciamo abusante come diceva, esatto oppure secondo te, e te lo chiedo proprio perché l'hai vissuto in prima persona ma non è escluso che accada anche in molti altri ambienti allora intanto io voglio parlare prima, stiamo parlando di arte l'arte comprende anche erotismo, bellezza se vogliamo cancellare tutto ciò è ridicolo perché anzi l'arte parla molto in senso erotico quindi io non è che nego una bellissimo tango argentino una danza sensualissima ecco e in più ci sono persone straordinarie anzi artisti straordinari che professano questa professione con lealtà poi c'è questo grande gusto molto purtroppo la maggior parte maschile del potere quindi alcune volte quando ci sono scelte da fare si perde il senso della professionalità perché la scelta è asimmetrica e quindi sia da parte delle donne che degli uomini quindi gli uomini di potere dicono ma come, mi viene gettata addosso tutta questa non sarei abbastanza uomo forse invece il concetto è il contrario tu devi scegliere una persona per la professionalità per la bravura ma viceversa in questo caso io racconto la parte di una donna di una donna ad esempio c'è una protagonista che invece lei pensa che funzioni così e quindi effettivamente anzi che lei potrebbe vincere in questo modo vincere la libertà ma in realtà invece si ingabbia perché poi di fatto un'altra verità vera è quella che l'uomo di potere sempre ha un grande fascino esercita un grande fascino è più facile innamorarsi di un uomo di potere o comunque ammirarlo considerarlo migliore agli altri dipende dal punto di vista certo perché io penso che avere grande fascino è anche fare i passi giusti avere un carisma, avere talento però almeno per quanto mi riguarda avere grande fascino anche avere lealtà, etica per quanto mi riguarda poi è vero un fascino pulito insomma un fascino pulito poi è logico e siamo abbaiati lo sono, lo sono stata anch'io però bisogna capire bene cos'è il fascino ovviamente le donne forse anche per natura cercano anche una protezione della prole insomma ci sono tante discussioni a livello psicologico ne leggiamo tantissime è tutto vero però se fossimo un pochino più limpidi più sinceri perché non bisogna accusare solo l'uomo l'uomo cresce con questa idea noi siamo, ad esempio nel mio caso siamo anche le madri che hanno cresciuto questo sistema quindi ce ne dobbiamo prendere responsabilità il mio modo per farlo è scrivere un politico può cambiare la legge ad esempio questa legge ridicola dei sei mesi per denunciare una molestia però non è solo questa ne sono tante altre insomma tutti possiamo fare qualcosa per cambiare la cultura e renderla un pochino più limpida niente di... quindi secondo te la scrittura e il raccontare dei messaggi delle storie come queste può avere anche la responsabilità di spingere a delle riflessioni importanti come quella che hai fatto proprio pochi istanti fa? guarda io è una scelta molto personale io sin da piccola in qualsiasi trasmissione io abbia partecipato ad esempio per fare un esempio il mio primo autografo è stato molto particolare già avevo questo senso di responsabilità e partecipavo a questo programma non è la RAI dove mi sono divertita tanto era una fiaba era divertente poi magari fuori veniva percepita ad alcuni in un modo ad altri però nella mia percezione era già un senso di responsabilità quindi diciamo ma ancora non ti ho dimostrato nulla quindi ho quasi bloccato questa cosa questo divertimento così leggero io penso che sia nella tua posizione una posizione comunque di potere in qualche modo perché puoi parlare con un bacino d'udenza talmente ampio insomma bisogna avere una responsabilità perché ci sono anche risposte che dobbiamo dare ai più giovani per creare un futuro ad esempio senza il problema come abbiamo attualmente del clima e come chi lo può fare questo se non coloro che hanno potere o comunque che sono dei megafoni qual è nella tua vita? potrei azzardare già una risposta perché ascoltandoti insomma una qualche idea me la sono fatta il valore più importante? mi viene da rispondere così in modo semplice l'amore ma l'amore poi vedi ognuno poi lo vede l'amore non è possessivo e questo è il caso di molte donne che invece pensano che invece l'amore debba essere anche possessivo no non lo è l'amore è incondizionato l'amore io lo paragono molto alla natura questa interconnessione semplice e ripeto leale guarda come come noi stiamo depredando cementificando la terra così alcune volte il sistema patriarcato aggredisce la donna e la donna è un po' come la terra no? questo grande utero che genera no? genera vita e quindi dobbiamo averne un po' più di rispetto Miriana purtroppo siamo quasi ai saluti tantissime ancora le cose che vorrei chiederti però una in particolare guardando alla tua carriera insomma fino a qui della quale credo tu abbia davvero dei bei ricordi soprattutto per il racconto mettendo sempre in primo piano il senso di responsabilità questo di te mi piace moltissimo veramente moltissimo grazie come invece immagini da qui in poi il tuo futuro la tua carriera il tuo lavoro o meglio ancora che cosa ti piacerebbe poter con lo stesso senso di responsabilità portare a tutti coloro che ti seguono da sempre con amore ma io in realtà penso di essere pronta ovviamente perché pronta sia per fare delle conduzioni sia per scrivere un altro libro forse questa volta sarà un romanzo un po' più particolare, metafisico questo è stato anche un po' feroce nella scrittura non so se hai avuto occasione di leggerlo fino in fondo e quindi vorrei prenderla anche più con calma io non posso fare a meno dell'arte di esprimere e di raccontare emozioni e quindi continuerò a farlo e spero che questa potenzialità possa uscire fuori da questo vaso ed esprimersi quindi in tutta libertà la donna bonsai Miriana Trevisan qui ad Angoli grazie Dolores un regalo immenso grazie a voi grazie tanto grazie a te grazie anche a voi per essere stati come ogni sera in mia compagnia rimanete lì tra poco alla linea ai colleghi dell'informazione grazie a tutti